12 milioni e mezzo di investimenti da aggiungere al piano triennale delle opere previste dal Comune di Padova per gli anni 2016, 2017 e 2018. Lo ha deliberato la Giunta di Palazzo Moroni quest'oggi, un emendamento che consentirà all'amministrazione di aggiungere dei lavori importanti per la città. Il rifacimento completo dello stadio Colbacchini, che sono 1 milione e 800 mila euro, qualche esempio, Cappella di Scrovegni, altri 400 mila. Poi abbiamo molto importante l'intero complesso dell'Arco di Giano, il secondo stralcio, anche qui sono quasi 8 milioni di investimento. Verrà completata così la seconda fase dell'Arco di Giano con la variante di via Friburgo e il collegamento con il cavalcavia di via Maroncelli. Finanziamenti anche per l'ampliamento degli impianti sportivi del Val Sugana Rugby e poi interventi sulle strade. Un pacchetto di asfaltature e sistemazioni varie di marciapiedi e di strade cittadine, sia dei quartieri che vi abita principali, per circa altri 3 milioni di euro. In totale un capitolo di spesa di 12 milioni e mezzo di euro, un investimento finanziato grazie ai mutui, visto che i tassi in questo periodo, dice il sindaco, sono estremamente bassi, con il 3% fisso per le amministrazioni comunali. Altri introiti il Comune li riceverà grazie agli oneri di urbanizzazione e la venta delle azioni di ERA, che in due anni frutteranno 13 milioni di euro.